Ciao a tutti, ciao a tutti ascoltatori, amici e niente, benvenuti in un nuovo video questo oggi è un video davvero diverso, strano, grazie alle zinchi ce l'ha fatta, fanno cambiare no, non è vero, in verità, il nostro Anto, uno dei bro, mi ha giustamente suggerito, come ho pensato anche io di portare questo tipo di video, cioè un VOD dei nostri local che streamo sul mio canale di Twitch che si chiama King Simone, che metterò nella descrizione, non posso chiamarmi Simone Negri per ovvi motivi nonostante sia il mio effettivo nome, ma Twitch non mi fa chiamare così perché non si può e quindi, sì, mi chiamo King Simone, e questo sono io, con il mio mezzo di Nibiru, sulla sinistra e contro Steven, Esteban, un altro della gang, mio fratello Steven e questo è l'ultimo turno del local di domenica, in cui eravamo in 16, quindi 4 turni spaccati e niente, siamo live su Twitch giovedì, sabato e domenica domenica non sempre, giovedì e sabato sempre però, giovedì sera dalle 9 e mezza e sabato pomeriggio dalle 3 e mezza, di solito e il local più divertente, quello più grosso giovedì sera ragazzi non perdetevi il local giovedì sera perché se no mi perdete le robe pazzesche comunque, chiuso questa piccola promessa, oggi andremo a vedere un'analisi di un duello live io contro Esteban lo velocizzerò, quello sono io lo velocizzeremo a 1.25 perché comunque, ecco, questo interrato voleva fare 6 coglione, scopato, ho fatto 6 io Paila l'audio non penso che si senterà della partita l'ho mutato perché non aiuta tanto meglio se commento io perché lo tengo solamente per sentire le giocate che dichiariamo così, giusto per... questo riflesso è davvero molto fastidioso però non ci possiamo fare gran che dato che l'unica presa di corrente è vicino a questo tavolo spegniamo anche un secondo per dire quanto cazzo sono brutte quelle sleeves quelle blu glossy, orrende, orrende, orrende è proprio una merda guys ah, mi metto però su me stesso eccomi sì, sì, sì ok più grosso, no no, l'unico spazio che c'è qua li guardi in mano qua ho vinto io il dato dichiaro stand by main faccio pros io ovviamente sto giocando sprite non c'è neanche bisogno di dirlo qua dicono incazzato come i mostri in maniera impropria non so se hai sentito ops banno 6 rivelo red druis worm triple tactics starter blu e magna adesso se non mi ricordo male avevo in mano la rana swap swap e penso triple tactics ce l'avevo già quasi sicuramente swap perma swap perma tactics e qua mi sa che prendo blu guardiamo subito prendo blu infatti come mi ricordavo normal swap non attivo l'effetto perchè se non mi ricordo male ho già pescato swap cioè dovrei avere un altro swap in mano o una cosa del genere faccio il blu effetto mi ad oggetto spesso già d'effetto qua penso che andrò a cercare smashes se non mi ricordo male smashes perchè avevo anche un beast in mano quindi mi sentivo abbastanza sicuro dalla mia mano mi sentivo abbastanza sicuro triple tactics beast ed ero carico ero carico faccio sprint fash secondo me qua è un errore questo è un errore secondo me perchè non vedo perchè fare qua hash obiettivamente perchè qua cioè nel senso non avrei avuto combo rana se non avessi avuto un altro extender livello 2 ma comunque cioè così posso comunque fare gigante evocare red e finire su elfe red che è buono questo è un errore che tu hai fatto hash ti prendo tipo il tactics se l'avessi fatto risolvere sprint avrei fatto gigante e gigante effetto stacco lui ci fa lui ci fa hash non avevo codamazzo e non mi avevo co red questo giusto perchè avevo già la rune in circolo beh non ho fatto non ho fatto non ho fatto non ho fatto la rune sulla normal adesso mi sfugge perchè ma secondo me c'era un motivo nella mia testa secondo me adesso è di domenica scorsa quindi quasi una settimana fa perdonate la memoria come fa hash ragazzi qua everybody al 3 1 2 3 triple tactics scoglione guardomano ma io dico penso non è vero spero già cosa fare easy perchè l'abbè scarta le format ragazzi possiamo dirlo che l'abbè scarta le format bam bra oh penso su cosa spinnare si comunque avevo perma magnamute perma magnamute e smashers in mano si si penso su cosa spinnare se non ricordo male spino tracer perchè è una mano abbastanza morta senza tracer e allora l'ho deciso di spinnare la rune perchè un buon top deck potevo aggiustare questa mano non di poco però si tracer credo fosse la scelta giù si adesso vogliamo un secondo skip un po' avanti perchè sono molto lungo perchè è una partita di mezz'oretta quindi cerco di skipare un po' dove posso tolgo tracer faccio magnamute faccio magnamute su jet per forzare gli druisworn perchè immaginavo l'avrebbe fatto il mio turno dato che avevo già fatto e ne gioca tanti di biste quindi la possibilità di pescare due druisworn era effettivamente elevata su me è una giocata giusta faccio gigante stack sprint evoco red faccio elfe e reborn red e setto smashers e perma con magnamute in mano qua io si può già di aver vinto praticamente qua viene mezzo punito tra virgolette perchè tanto perma non poteva farmela su red perchè è intercattabile ma su elfe pescando perma pensa un po' ho scrivuto troppo attiva ravine io ci penso un attimo ma l'attivazione della carta va bene quando scarta di costo il tipo giallo come cazzo si chiama weaver buster ci faccio smashers se non ricordo male si scarta di costo dovrei fare elf effetto c'è uno smashers mi rievoco blu e banno elf se lo ricordo male perchè tanto così mi tengo in mano mi tengo in campo oppure oppure banno blu non mi ricordo ma comunque ho già vinto perchè sapevo che in mano aveva la viverna si e banno elf esclusivamente per attivare blu e avere più follow up perchè altrimenti la battle avrebbe potuto rallentarmi un po' ma niente comunque ho vinto adesso sediamo io solo per andare a secondo io non mi ricordo bene cosa metto decide mi sembra a queste carte andiamo indietro un attimo si vedono si vedono c'è un fotogramma in cui si vedono queste tre shifter il nono beast e le tre dark ruler quindi secondo me ho tolto le tre prosperity perché quando metto tre shifter nel quarto beast le tolgo quasi sempre se non tutte almeno uno o due perchè essendo che metti tante cattine non vuoi vedere le prosperity in mano perchè non ti serve un cazzo vuoi vedere prima le carte non vuoi vedere le prosperity dark ruler perchè contro il suo mazzo è molto forte perchè tolgo le palline savage in campo o borrel borrel sword e borrel sword mio padre borrel land che è un po' un dito nel culo da togliere e basta fondamentalmente qua sto andando avanti perchè adesso lo guarderemo in uno e mezzo ragazzi così lo fermo lo mando avanti meno ma è più veloce mamma mia che partenza ragazzi steven fortissimo chaos pace scarto abso add white effetto abso add tracer ban abso vabbè link 1 striker uno coso due quell'altro si va bene questo è striker non ci vedo tantissimo ma si è contro la luce porca troia ma vabbè peccato add a boot common che schifo facciamo il mio presente ragazzi se andaggono i commenti sono più brutte le sleeves il mat o la boot sector launch common di esteban questa è una gara molto dura quindi mi raccomando votate bene pensa un po' fa un po' di unchaffling pensa un po' sta pensando sta pensando ragazzi palletta serial da white giustamente ha 6 carte in mano effetto va bene speciala spacca io credo io credo di aver aperto anche un entrap se mi ricordo male ho triple tactics e due prosperity è vero due prosperity avevo pescato due prosperity triple tactics infatti non avevo tolto prosperity perché avevo tenuto dark cruler ma me ne sono pentito questo ho tolto però probabilmente alla fine ho deciso di non mettere salone probabilmente ho deciso di non mettere salone e mettere solamente tre dark cruler senza shifter probabilmente però potrei sbagliarmi 7-1 mi fa passare ah porca troia fermati ricapitoliamo allora lui ha rimbalzino una target delle pallette una set che nelle mie teste era o branded beast oppure perma savage e l'evocazione da mazzo che il cui evoquerà magnum al 100% io ho jet due prosperity triple tactics e quello che credo sia druisworm se non vedo male si è druisworm faccio druisworm qua taggo tracer evoco druisworm ah in end gliel'ho fatto che plus mamma mia qualche motivo gliel'ho fatto in end giusto faccio prosp qua faccio prosp da 3 faccio prosp da 3 perché volevo che me la negasse per farne un'altra questo questo mio ragionamento non tolgo zeus però tolgo quelli per farlo grosso perché mi si era toglia da roba credo di aver tolto mascherina probabilmente ho tolto mascherina auramax e moschito rivelo 3 ah una buona rivelata una buona rivelata addo angler perché ho pescato la rana quindi ottimo speciale swap scartando angler uno angler due swap per non prendermi hash o farmelo negare ok gli chiedo se hai in mano qualcosa ma non c'è un cazzo ecco a tempi tecniche si te l'ha pensata special jet effect ci pensa un attimo me lo nega ecco a posteriori poi ci abbiamo pensato anche dopo aver detto a posteriori io una giocata che avrei dovuto fare praticamente subito era dopo aver ritolto cioè tipo adesso che non era più savage era di forzargli le pallette di forzargli le pallette questo momento non mi ricordo non mi ricordo benissimo perché ma forzare la palletta cioè fatto lui su un target forzare gli effetti sarebbe sto buono per una serie di motivi adesso vedremo perché non mi viene in mente però mi ricordo che ho detto cazzo avrei dovuto fare così invece gli tolgo savage perché non volevo avere un body troppo grosso contro perché ha 3.500 quindi non sapevo come toglierlo però effettivamente in questo in questo stato della board avrei potuto tranquillamente andare per una giocata del calibro di zeus perché lui ha comunque pochi mostri in campo ha già tolto la negazione al rimbalzino ma se glielo forzo non ce l'ha più in qualche modo faccio zeus e niente sprint effetto qua lo faccio esclusivamente perché per avere sprint più grosso perché tanto ho già fatto una wall tank quindi non evoco due beaver ma se faccio così mi traverete spray con sprint però almeno ho gigante 3.200 senza aver usato il body il body largo qua gli faccio uno sprint e due druid swarm target savage si vedono anche le mie caccole sulle sleeve molto bene evoco effetto angle risolve faccio ecco ecco cosa faccio un ibimaru ho sbagliato si ho sbagliato a fare questa mossa piuttosto che perché avrei potuto fare il contrario avrei potuto fare il contrario proprio volevo fare un ibimaru perché così gli avrei forzato prima quello rimbalza poi faccio un ibimaru tolgo savage anche se solo fino all'end solo per lavarmelo dal cazzo e poi avrei potuto effettivamente giocare e addirittura fare combo rana quasi sicuramente perché poi un ibimaru è gigante effetto evoco blu me lo neghi bene batto il bitto faccio totale ho sbagliato tira effetto mi toglia il ibimaru questo l'avevo pseudo previsto il problema è che così ho perso un body importantissimo ho perso avere un body molto importante io vengo ancora triple tactics che non l'ho usato prima perché era completamente inutile cioè avrei voluto prenderli savage per l'età si per togliarlo effettivamente è quello che penso è addirittura avrei chiuso probabilmente faccio affetto lui ci pensa me lo nega di imperma perché è settato no ci fa oh shit ah perma su zero giusto stop entro in battle pro abitare magna magna va al cimitero ah minchia mi ricordo cosa faccio qua dark che troiata porco dio dark faccio dark provo a prenderli il magnamut sperando che l'asset non fosse perma e poi vedo la mano avrei dovuto fare triple tactics molto prima per vedere la mano sto molto greedy avrei dovuto fare triple tactics quasi subito dopo che ho stato savage per vedere la mano togliarli quel hash perché poi alla fine non ho fatto lo stesso la carta più forte è la forma ragazzi non c'ho non c'ho non c'ho non c'ho scorruto abbastanza devo farla subito perché quando ho fatto prossimo non posso più scala ma a me che cazzo me ne frega una volta che ho tolto una mini gate boom guardo mano tolgo uno nel cane entra poi qua si scombava all'infinito guys qua grande misplay dal vivo faccio decisamente più misplay probabilmente però qua beh questo era anche il quarto turno che non è tutta sta roba però comunque il quarto turno incomincia ad essere un po' cioè almeno sei più prono a fare misplay e e poi c'è anche meno tempo per pensare io personalmente non mi prendo tanto tempo per pensare nelle mie giocate quando sono dal vivo perché 40 minuti non sono tanti per una best of 3 che ha comunque dei tempi tecnici come le mescolate e quelle cose lì alla fine il tempo lo perdi anche a mescolare sai dare mettere giù di lì invece su db ci metti un attimo quindi anche dal vivo sono abbastanza le... cioè no non è vero sono troppo rapido perché non voglio essere troppo lento quindi spesso non penso abbastanza 7000 e frospetti come bluff in hand di un magnate al rebellion e qua si può aver perso perché è un one card combo praticamente rebellion non mi ricordo mi arrendo mi arrendo andiamo a g3 andiamo a g3 andiamo a game 3 qua stima decide di rompermi i coglioni come ho giocato la partita prima molto simpatico mentre stai giocando godi uno che ti rompe il cazzo affinché dovevi far questo io game 1 non gli avevo detto quello che che ha sbagliato perché tanto avrebbe detto no figate i sbagli è vero io insomma abbiamo capito andiamo avanti mamma mia vedete quanto tempo si perde a sidear ci avremmo perso almeno buoni due minuti e mezzo 3 minuti a sidear figa su di bici metti tipo un minuto se sei lento schiacci tre tasti e hai fatto si qua un ragazzo ha chiamato un consulto giaggistico mi ha perso altro tempo ma il tempo non è mai un problema in verità qua non giochiamo noi due almeno è difficilmente un problema anche perché comunque sono due mazzi più o meno rapidi nelle giocate non c'hai catene che si incatenano nel culo quindi si capisce relativamente in fretta fanno una buona pace io qua rappresento la mia felpa muttiche questa ringraziamo lo sponsor dov'è io faccio qualità ragazzi solo qualità il gatto è morto ah no 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 fermo fermo allora io qua parto con una mano pseudo ftk avevo red no non red non avevo red avevo beaver carota beaver carota blu antispel magnamute se non mi ricordo male e ho errato ero sbagliato infatti da qua allora la buona regola di sprite vuole che quando tu apri tanti extender una delle prime cose che fai possai una delle prime cose che fai è fare gigante perché tanto perma se te la becchi gigante te la becchi lo stesso easy ash praticamente uguale almeno che non ha una partita extender io in questo caso avrei potuto fare normal normal beaver effetto specialo blue wad jet no era la quinta avrei dovuto fare subito subito spra gigante sarebbe stata giocata probabilmente corretta perché avevo davvero una mano super carica anche un antispel quindi non mi faceva neanche dark ruler avevo un bestial avrei potuto finire su una board comunque molto solida perché gioco da ball cross quindi con una mano così forte anche se mi fa imperma o ash gigante faccio jetta da double cross e praticamente passo sull'ftk quindi non è un gran problema ho sbagliato perché ho ignorato nibiru che è il mio meta tra parentesi perché si non ci ho pensato non ci ho pensato non l'ho rispettato non pensavo che avessi andato dentro nibiru perché comunque potevo aspettarlo perché è un mazzo che ho gioco luce oscurità però non è un antispel tanto gioco la side resta esclusivamente per sprite o per qualche rogue pazzerello però flander non la prende tier non la prende per gli fare un favore praticamente quindi non mi sembrava proprio cioè non mi sembrava un ht fortissimo ma contro sprite se la vedi è molto forte perché da quando l'ho abbandonato in Toadins è quasi obbligato a fare combo sprint che ci becca nibiru nel culo e ti stupra quindi si faccio angler si si ho la mano che ho detto prima no ho anche triple tactics beh figa bravo infatti tiro triple tactics guardo mano non mi sbaglio fai carta foto triple tactics io vorrebbe scala tutte le mie mani vorrebbe scala triple tactics l'ho detto l'ho detto l'ho detto ragazzi fanculo nei miei controller specialo carota qua per paramida perma su sprint perché essendo che è un ht più giocata l'ho visto che la giocava ho preferito pararmi tra virgolette in questo modo nel senso che tanto mi fai perma lì nego e ho comunque due body o comunque combo giganti quindi alla fine poco male effetto angler e lo chiamo due beaver sto chiamando rispondendo dopo evoco due beaver risolve qua specialo blu effetto add ogget specialo ogget ci pensa io qua non so se pensavo se avessi hash o qualcosa ma tanto anche per nb ormai era andata avessi avuto dei gym buster qua figa me dei gym buster è una carta che piace molto in sprite ma non la gioco più per mannequin perché mannequin è una di quelle carte che ti apre davvero tante giocate in certi spot magari l'avversario ha qualche mostro dark al cimitero inutile qualche entrap dark inutile anche hash al cimitero la reborn ti ha di uno sprite piccolo lo puoi specialare se c'hai un altro body quindi non è male poi beta nbiro ti fa fare zeus anche lui è grosso mi piace mi piace mi fa nbiro io qua dico eh nbiro chiedono il tempo non ci interessa perché tanto qua al tempo non c'è nel replay niente mi fa il mega token guardo mano beh niente male però token grosso no non ci avevo in mano c'era double cross e magnamute non mi ricordo male qua faker si carica mi fa due beastie alla volta due trigger via beh 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 si calmi fa saronir druis 1 c'è uno magnamute esclusivamente per togliere il beastie l'utile dal cazzo cioè lo può fare nel suo turno però almeno anch'io un beastie in mano dopo c'ho due mostri non ho voluto fare il mio turno avrei potuto fare magari qualche un po' piccante ma figa sta anche sbagliando di resume dice zoom ragazzi che schifo pescato in perma mi rompe il cazzo per vedere il cimitero porco di azz c'ho una carta utile una dove sono il suo gigante io penso fare il mio in chain conoscevo pankra non lo faccio il mio in chain perchè sono speciale a pankra e siamo punto a capo praticamente cioè mi scoppia tutto con pankra perchè è più grosso di magnam e spacca il token e quindi non gli faccio niente per quello sono fuori dall'inquadratura quando faccio così scusate scusate si qua mi rompe il cazzo per il token vabbè c'ho due mila tre mila non mi ricordo fa foolish di lubelion con saronir e qua attiva dark penso perchè penso se fare il mio beast e assumo il mio magnamute per evitare che me lo prenda e poi addi ripartenza o faccia delle giocate oppure stermono per lubelion ci penso un attimo poi alla fine decido di farlo andare dark perchè tanto con lubelion lubelion cerca magia tra pensavo che lubelion cercasse mostro invece solo quando lo scarti aveva appena nato druiswurm mi era preso questo passaggio quindi no in verità avrei dovuto fare druiswurm sul mio magnamute per evitare che me lo prendesse e dopo probabilmente avrebbe vabbè nel senso avrebbe giocato forse una troppo però toglie quella toglie il token battle beta beh sarebbe stato un po' più in difficoltà sicuramente di quanto non è così si comunque praticamente qua avevo già perso ragazzi possiamo dirlo avrei dovuto toglie beaver mi sa che ho toglie anche beaver fa wall e prende triple tactics e pesca 2 perchè triple tactics si crea più forte le formate ricordiamocelo beh ha pescato safe per triple tactics normal scomba un po' fa la combo al no fa triple burst vabbè non mi ricordo cosa cazzo ha detto steven ma va bene arrivo a quello fa la combo manda cimitero il mio ops scusate qua i miei fan mi caricano grazie a tiltobodo e gabry ma no geddafi non c'è più ragazzi non c'è più geddafi è andato è volato no io mi ricordo il top deck mi ricordo il top deck me lo ricordo era anti spell e passo mi sa su anti spell settata si pesco anti spell mi arrendo voglio vedere il momento anche perché l'avevo anche predetto ho detto io so cosa pesco anti spell ah questo questo non è questa è una buona giocata secondo me come sono divertente guys se adesso questo frod mi vm si carica come un drago perché mi ha fatto nibiru g2 g3 e non so andiamo a prendere velocemente la prima partita non si vede l'esposizione facciale ma ve la faccio io non ho un cappuccio questo era il mio avversario g1 quindi si lo sappiamo già che è un pagliaccio ma che pagliaccio che pagliaccio va bene e niente questa io qua ho perso complimenti al mio avversario per la vittoria a este e niente vi ricordo che se vi piacciono i duelli live noi facciamo un botto sono tutti i vod pubblicati sul canale dei log si chiamano tutti i log al giovedì perché dal telefono non ho mai voglia di cambiare il nome però vedete che sono tutti i vod da due o tre ore sono più o meno tutti i tornei che abbiamo fatto quindi se vi piacciono questo tipo di video possiamo sicuramente farne degli altri e possiamo sicuramente farne degli altri quindi scrivetelo nei commenti nei commenti e triple tactics gang per sempre I'm out